Benvenuti nel mondo degli orologi Steinat. Se stai cercando un orologio di alta qualità con un design moderno ed elegante, non devi cercare oltre il marchio Steinat. Con sede in Germania, Steinat è noto per la produzione di orologi meccanici di precisione con un'attenzione ai dettagli che non ha paragoni. La collezione di orologi di Steinat comprende una vasta gamma di modelli, ognuno caratterizzato da un design unico e distintivo. Gli orologi Steinat sono disponibili in diverse versioni, tra cui orologi da uomo e da donna, orologi automatici e orologi al quarzo. Uno dei tratti distintivi degli orologi Steinat è la loro somiglianza con i modelli di orologi di lusso a prezzi molto più accessibili. Questo è possibile grazie alla scelta di materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, il titanio, il vetro zaffiro antigraffio e i movimenti svizzeri. La scelta dei materiali e dei colori è studiata per dare vita ad orologi unici e distintivi, capaci di soddisfare anche i gusti più esigenti. Steinat offre una vasta gamma di funzionalità avanzate come la resistenza all'acqua, la cronometrazione, la data, la visualizzazione del fuso orario e molte altre. Queste funzionalità rendono gli orologi Steinat perfetti per chi cerca un orologio resistente e funzionale. Ad esempio, l'Ocean One è resistente all'acqua fino a 300 metri di profondità, il che lo rende perfetto per gli appassionati di immersioni subacquee. Inoltre, è dotato di una lunetta girevole unidirezionale, che consente ai subacquei di tenere traccia del tempo trascorso sott'acqua in modo preciso e affidabile. Il marchio Steinat ha una reputazione di produzione di orologi di alta qualità e questo si riflette nella sua base di clienti fedeli e soddisfatti. Inoltre, Steinat fornisce anche garanzie e servizi di assistenza clienti per i propri prodotti.